Angela Cerbi, Fresh Film Radio, Mostra di Cina di Venezia, Gabriele Mainete per Freaks Out, finalmente, abbiamo visto il film questa mattina noi, mi sono divertito un sacco e la prima domanda è come hai fatto a tenere insieme una macchina così gigantesca, perché ha un impatto produttivo e visivo che ti schiaccia sulla poltrona. Davvero? Sì, sì. E che ne so, io credo che i personaggi sono la chiave per poter far funzionare una grande storia, quindi non devi mai perdere di vista la possibilità, anche se disponi di strumenti così spettacolari come hai detto tu, la possibilità di raccontare la loro storia, in ogni scena tu devi sempre capire che hai la possibilità di aggiungere qualcosa al personaggio non informando il pubblico di da scaricamente con la parola, ma mettendo in scena una difficoltà che il personaggio decide di superare o non superare. Nel fare quello ti dice chi è. Chiaramente tu hai un obiettivo, il personaggio cerchi di spingere verso la risoluzione di un conflitto che è presente all'inizio e nel caso appunto il conflitto si risolve il personaggio ha vissuto una catarsi e tu insieme a lui diventa il tuo veicolo emotivo. Nel caso in cui non ce la faccia, come quello del villain, lo compatisci e dici spero di non fare quella fine. Io spero sempre di non fare la fine di Franzi, io faccio questi film in cui i personaggi alla fine in qualche modo celebrano la loro trasformazione con un meraviglioso abbraccio e lo ricerco tanto. E qui avevi quattro personaggi, non uno, che dovevano fare questo percorso. Come sei arrivato a questa storia, a pensare questi quattro freaks in quel periodo storico specifico che ti creava un ulteriore diciamo livello di difficoltà? Livello di difficoltà? Ma in realtà credo che me l'abbia semplificato, forse per la messa in scena me l'ha complicato, ma per il racconto no, perché il freak per sua natura fisica è unico. Diciamo che al tempo venivano descritti come fenomeni da baraccone, come scherzi della natura, quindi diversi. Qual è la cosa più interessante se non mettere un diverso accanto a un nazista che invece di per sé pensa di appartenere a un'elite in cui l'ariano in qualche modo dovrà primeggiare su tutto e affidare al cattivo del racconto un percorso analogo perché lui stesso è un freak e lui vuole diventare di fatto un ariano e rifiuta e nega se stesso. La cosa meravigliosa che dice il personaggio di Franz Rogowski, che dice Franz Rogowski del suo personaggio, è che in realtà anche lui è in ricerca di una famiglia, sono tutti in ricerca di una famiglia. C'è il bisogno della figura paterna, quindi Israel, quindi Franz nel momento in cui vanno nel circo tedesco loro tre, però poi quando si cresce nasce un surrogato di una famiglia che per quanto riguarda la società di multigenere, eterogenea, loro sono tutti diversi e si allontanano verso il tramonto. Senti Gabriele, un'ultima cosa sulla parte estetica, l'immaginario nazista che tu hai creato è un immaginario iper, cioè perché è tutto iper nazista, è tutto iper colorato, è molto pop, gli levi un po' di peso, lo rendi più eterio, più banale, bravo. Sì, come diceva Anna Arendt. E perché questa scelta? Perché è il modo in cui sento di avvicinarmi a questa storia, nel senso è come se, la grande lezione di Charlie Chaplin è il grande dittatore, a volte comunque il male va banalizzato per essere compreso, per vederne in qualche modo le sfumature più infantili, perché poi se uno va tanto a fondo nelle persone che di fatto commettono dei crimini è come se mancassero di un'evoluzione emotiva, non tanto intellettiva, ma più emotiva. gli mancano dei passaggi e sono profondamente incavolati, come dei bambini che gli manca qualcosa, allora l'intento è di raccontare un uomo che fa i capricci con un potere tra le mani e fai un delirio. Chiaro che Franz è una grottesca, super grottesca trasfigurazione di Hitler, però quello che mi piace a me è un po' invertire, non dico il passato, ma la proposta, cioè che tutto ciò che si incenerisce in realtà sono i nazisti e tutto quello a cui tiene Franz, anche l'amore della sua vita. Grazie mille, grazie mille Gabriele Mainetti per essere stato con noi per Freaks Out, Angela Cerbi, Fred Film Radio, The Festival Insider.